Una ricerca nata dalla collaborazione tra l'Istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli e l'Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati Traverso, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, ha evidenziato come alcune varianti genetiche rare, se presenti simultaneamente, possano esercitare un ruolo importante nell'aumentare il rischio di ammalarsi di Parkinson. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Molecular Neurodegeneration, ha preso in esame i dati genetici di due tipologie di pazienti, quelli appartenenti a famiglie nelle quali la malattia di Parkinson è ricorrente e quelli in cui la patologia era comparsa senza che ci fosse familiarità. Si tratta del più ampio studio genetico realizzato su pazienti italiani affetti da morbo di Parkinson, utilizzando metodiche di sequenziamento di ultima generazione, in cui sono state identificate varianti correlate al rischio di Parkinson in 26 geni. La presenza contemporanea di due o più di queste varianti rare, spiega Teresa Esposito, responsabile del laboratorio CNR presso il Neuromed, si è rivelata associata con un numero della probabilità di sviluppare il Parkinson nel 20% dei pazienti. Noi dimostriamo in questo studio, forse per la prima volta, che queste forme di Parkinson sono dovute alle varianti rare presenti nei geni che causano poi anche le forme familiari di Parkinson. Quindi non sono molto diverse le due forme e questo apre un'enorme possibilità per la diagnostica del Parkinson e per la patologia in sé, per lo studio della patologia. Questi risultati, secondo i ricercatori, appaiono promettenti per individuare precocemente le persone a rischio elevato. Saranno naturalmente necessari altri studi per comprendere e sviluppare potenziali approcci terapeutici, primi fra tutti quelli basati su sviluppi farmacologici e di medicina rigenerativa.